E' una partita che abbiamo fatto dopo aver registrato il video che vedrete o che avete già visto sul canale di Rewind Non so quando farà uscire questo video Se non siete a conoscenza di questo contest vi consiglio di rimanere attivi sul canale di Rewind Perché veramente ci siamo fatti due risate Quindi semplicemente dopo aver registrato 55 minuti di video che ovviamente vedrete molto ridotti Ci siamo fatti semplicemente una partita privata in Rissa Solamente che eravamo in 9 e è veramente scoppiato il delirio Non sentirete probabilmente tutte le voci di quelli che hanno partecipato Perché appunto la registrazione di questa partita non era programmata E quindi non tutti avevano abilitato la condivisione della voce Cercherò comunque di tagliarvi i pezzi un po' più muti E detto questo guardatevi il video In una mappa tra l'altro che Ma poi quanti bunti è un mè? 25 C'è neanche un po' più 30 No Chi è che mi ha fatto a fare le più assist? Corpo a cor Aiuto Aiuto Hai spavato avanti No dov'è Raga il trucco è stata la catena Non è che la catena si fa comunque Quanti siete? No 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 Incredibile Minca veramente era buona quella Raga è un bordello non si capisce Oh what the fuck Oh what? No 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 Eh vabbè è il corridoio della morte praticamente Eeeh Minca Sì ma cos'è? Doveveveveve? No chi è che me l'ha rubato? Infami ragazzi parlo con l'entità per quanto stai schienando gol oddio l'ho ucciso e mi sei responato davanti gogo niente è incredibile vabbè ragazzi il ted è ovunque e da nessuna parte lo stesso sono il capo no 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 ma guardate bene ma quanti punti ho messo ma non ne ho detto ma saranno tipo 200 oddio ce l'ho dietro oddio ce l'ho al culo aiutaci dovunque fuggi oh oh siete due contro di me oh no chi è che mi è rubata oddio martelli vabbè dai raga in due guarda guarda ma guarda Ted minchia raga mi sembra sei risponato qua da via sei risponato là minchia me ne sono accorto ma no raga faccio faccio un pace dio ce l'ho dietro no dai fortino sparare me oh oh shit non me ne ho raccordo aiuto quanti siete quanti siete quanti siete guarda oggi sono un po' fugga capacità ho fatto la spalla dal martello ma no 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 e vabbè e vabbè ragazzi il rakel pompa è come la gente che guarda Temptation Island insieme a fonti un'altra scatata paragone tramontano e per me siamo io scusa per pignola che siamo lì no io spero che questa ignoranza la stia registrando raga la cosa bella è che io sto pensato di giocare bene e poi c'è scritto sopra quinto posto guarda quanto corre come è questo spawn così raga ma vi immaginate vi immaginate nella vita reale i guardiani che magari davanti a una persona ricaricano invece che muovire da qualche modo finiscono i colpi e cosa fanno? ricaricano cioè non è che gli lanciano l'arma in testa cosa faccio? no dovrebbero lanciargli l'arma in qualche modo ragazzi il tè del mio incubo cazzo è bello zavala ma dice due per uno due per uno due per uno come l'ho rubata tu che mi dimenticare ragazzi ho leggione Ted come può andare davanti alla morte oh dio che la gas esatto che male alle orecchie che male alle orecchie no vabbè ma guarda dove sto spawnando ragazzi ragazzi dove siete dove siete chi è che mi ha ucciso col corpo a corpo avevo i martelli oh fuck io io guarda quanto corrono i cacciatori comunque ragazzi comunque ragazzi per un attimo anche io ero primo all'inizio partita lo siamo spawnati hai finito partita guarda il titano guarda gold come skin ah the god guarda Ted the god ok eccola eccola oh 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 che infoniato ragazzi è la sagra delle super oh 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 la gente prendi le muni e scappa prendi le muni e scappa mi sta tirando un busto stia stia cos'è successo ah vabbè no niente raga camperare non è la soluzione no no aiuto aiuto chi è questo decisamente mi gira la testa in una maniera allucinante aiuto raga ma da quando è qua cioè ci vogliono tre colpi di corpo a corpo per uccidere una persona da destiny 2 ma di nuovo da destiny 2 è incredibile c'è dietro c'è dietro c'è dietro e io che facciamo i signori del ferro fino a tipo a due secondi aiuto sono morto dove cacchi sono dove sto andando non è vero ma già ci sento ma si uscirà un video da questa parte ciao beh io volevo il registro dai se lo registro lo pubblico me sta bene uh si si è proprietato bestemmia non ce ne sono state qui no no dai non ancora non è possibile che nessuno ha bestemmiato eh appunto manca qualcuno manca allora è il veneto eh qua ci vuole il veneto eh io io sono per metà per metà bergamasco ecco apposta quelle mi piacciono un sacco quelle mi piacciono un sacco eh vabbè cosa chi mi asciuda da superfondo mappa avete presente quando entrate nel paese c'è il cartello del paese col nome ecco su bergamo sotto il nome bergamo c'è sotto una bestemmia strano non l'avrei mai detto vai vai comunque ragazzi si vede che Ray sta provando i trickshot si vede sta provando i trickshot si vede con l'adria madonna cos'è sto coso ma di nuovo ma che senso ha chi è che è Wanchett ho visto uno Wanchett oh finito terzo ma che sky ci è rimasto sempre quarto sempre terzo eh vabbè io sono Gaud e la tua luce è mia